Oltre 600.000 euro per 22 investimenti di asfaltatura per la primavera prossima, che toccheranno diverse strade in tutto il comprensorio comunale. L'amministrazione inaugura così una nuova stagione di manutenzione straordinaria delle strade, ha detto l'assessore ai lavori pubblici Riccardo Carletti, che ha aggiunto, mettendo la sicurezza dei cittadini al primo posto nella gestione della viabilità di Città di Castello. L'amministratore annuncia anche di essere in attesa dell'accordo quadro, che porterà 2.400.000 euro per i prossimi 4 anni, ovvero 600.000 euro ogni 12 mesi, a Città di Castello con cui poter effettuare ulteriori opere. I lavori inclusi nel progetto saranno finalizzati al raggiungimento di un livello di sicurezza adeguato alle caratteristiche del traffico dal punto di vista della quantità, della frequenza, della velocità di percorrenza dei veicoli e riguarderanno numerose vie sia del capoluogo che delle diverse frazioni. A seconda delle condizioni dei manti stradali, con gli interventi previsti si procederà al rifacimento del manto superficiale di usura, al consolidamento del sottofondo, alla realizzazione di opere per la protezione delle carreggiate, per la captazione e lo scuolo delle acque meteoriche, ma anche al rifacimento della segnaletica orizzontale. Sul piatto però sono pronti anche altri investimenti.